Una battuta di troppo, una discussione e poi l'aggressione con più di dieci coltellate. La vittima è il 39enne Giuseppe Falco colpito al torace con almeno 15 fendenti dal fratello minore Marco di 35 anni. A quanto emerso il diverbio tra i due fratelli sarebbe nato per futili motivi, uno sfottò tra fratelli davanti ad altre persone. La scena è stata ripresa dalle telecamere del bar Peddi di Via Appia. Marco Falco ha utilizzato un coltello e ha colpito il fratello più volte in un raptus di ira. Fuggito è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi nel corso della notte ed è stato arrestato in fragranza di reato per tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato in primo momento presso l'ospedale di Brindisi e successivamente, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica del Vito Fazzi di Lecce, dove si trova in prognosi riservata.